questo bel tonno e calico ok livello disponibile cioè livello non è disponibile nella demo il livello 4 quindi a questo punto non ci resta che provare bianco totale scappa prima devo scadere il tempo questa sarà ah forse qui c'è la moto no forse qui non c'è la moto no non c'è la moto non credo che ci sia la moto anche se ho visto una moto ma magari cavolo almeno provassi la moto sarebbe figo giusto per capire un po' che cosa cambia ma purtroppo 9 allora la WP aumenta l'uscita un aumento di velocità istantaneo ferma aumentamente il tempo mi piace derapata a lungo per ottenere il turbo extra quando compri direzione mi sa cazzo che questa qua è la moto ottenere tempo aggiuntivo per ogni anello di sua torta verso ok la fanculo vai si forse si si la moto agi ok per ci levare con piacere 6.000 metri a portare scappa prima che il tempo non con... ok ci proviamo ok elevata decretazione illegale 4.000 metri a portare elevata la mania nel ciclo di esecuzione ok 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 ho sbagliato mi puoi bloccare così il gioco merdaccio c'è il point c'è il point cazzarola 2000 metri alla fruta del programma minchia sembra di stare sembra di stare sul ghiaccio ok questa praticamente me l'è stata regalata me ne sono reso conto persino io e questa me l'ha pure regalata il gioco era abbastanza semplice e farlocca infatti ho fatto dei punti di merda proprio però vabbè non importa proviamo se c'è la possibilità di provare l'altro vuoi personalizzare il tuo personaggio e giocare alle sfide settimanali ottieni il gioco completo ti sto divertendo scopri più di più di più il gioco completo non so nemmeno più parlare ok il ciclo ok ciclo 2 chi meglio delle donne non sa che cos'è un ciclo 2 forse sarà tipo il grado successivo dell'incazzatura estrema pericolosa di cui nessun uomo vorrebbe mai avere che fare averci che fare va bene comunque a parte ste cacate continuiamo continuiamo fermiamo momentaneamente il tempo fangulo andiamo eh ok per non mi bloccare il gioco cazzo avanti fa di rifare mi fa concentrare gira tazzo ha sbagliato nooo eh ah il ventilante nooo parca putena parca putena eh va bene andiamo riproviamo sequenza di concentrazione attivata 8000 metri a portare 6000 metri a portare l'altra è il programma esteso rilevata decretazione illegale ok nooo cazzarola cazzarola pacca pacca nooo nooo sequenza di concentrazione sequenza di concentrazione avviata parca caputena 8000 metri alla cura del programma tempo esteso nooo 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 8000 metri a portare parca 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 che stronzo se l'avevo fatta era lì, vaffanculo con lo storso, mi ha segnalato per l'immediata dissoluzione mi speronava quel faccia di vabbè vabbè la sequenza estesa il tempo esteso ok, ti gira l'altra parte, stronzo ma perché non lo prendi? rilevata registrazione impegabile 4.000 metri in totale prendilo Bertiana, guarda che stronzo non ci credo, guarda che faccia di culo ma guarda che faccia di culo ma dai, non è possibile, ma per quel po' di questi stronzi che non riesco a fare le cose ma dissolto, dissolvi questa cippa di manzo va bene ragazzi, dopo questa finale abbastanza incazzoso io sono calmo, tranquillo e spensierato spero che questo video vi sia piaciuto il gioco sembra molto carino è una demo come ho detto all'inizio quindi se volete provarla su prestation store la trovate vi auguro una buona continuazione ci vediamo ai prossimi video ciao ragazzi passa al lato oscuro della forza iscrivendoti al canale di JackWhite28 ben totto